2-1, quinta vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi, Campodarsego agganciato al terzo posto e sesto piazzamento distanziato. Non poteva andare meglio l'ultimo match di febbraio per l'Union Feltre, mica facile comunque aver ragione del fanalino di Coda Trento, arrivato al boscherai di Pedavena, determinato alla ricerca di punti salvezza. Decisivo l'ottimo inizio partita di Verde Granata, andati in vantaggio dopo 7 minuti con un colpo di testa di Tobanelli, e bravi poi a raddoppiare all'undicesimo con la conclusione di Pasi da dentro l'area di rigore. Nella ripresa è la gran bella punizione dell'ex Padova e Crotone Petrilli a riaprire i giochi, ma le speranze di pareggio giallo-blu si fermano al colpo di testa di Cristofoli, fuori di pochissimo. Contento, chiaramente, mister Sandro Andreolla. Sì, sono tre punti fondamentali che ci permettono di ritornare al terzo posto in classifica, che comunque è sempre un bel vedere, e di allungare sulla sesta in classifica, che comunque, essendo il delta, è comunque sempre un cliente pericolosissimo per noi. L'abbiamo approcciata benissimo, ma al di là dei due gol, proprio bene, proprio positivi, come avevamo provato a fare. Noi avevamo otto vecchi a referto, loro ne avevano 11-12, quindi faccio un complimento grandissimo ai miei ragazzi. Domenica si gioca prima della sosta, prevista il 10 marzo. Union Feltri impegnata in Friuli contro il Charlene Smuzzane. Belluno, atteso al polisportivo da un delicatissimo scontro diretto. Avversario dei giallo-blu, infatti, la clodiense terz'ultima.